La cantante alcamese Paola Gruppuso, che si è distinta durante la partecipazione alla trasmissione The Voice of Italy, sceglie ancora Marsala come scenario per il suo nuovo video ufficiale. Dopo la registrazione dei due nuovi singoli, Tonight e Il mare dentro di me a Boston, le riprese video saranno effettuate il 26 febbraio all'interno dello storico Palazzo Burgio Spano, eletto come cornice ideale per i due pezzi scaricabili su iTunes e su tutte le altre piattaforme digitali. Il video sarà pubblicato sul suo canale YouTube, sulla sua pagina ufficiale e volerà fino negli Stati Uniti, dove i suoi produttori americani provvederanno a mostrarlo al pubblico. Già nel 2013 la giovane artista alcamese aveva realizzato a Marsala il video del suo singolo Il ragazzo che non c'è insieme a Walter Nestola. Progetto di alternanza scuola-lavoro. Il liceo Almeyer di Alcamo sceglie la nostra emittente. Le stage questa mattina degli studenti della terza ha dell'indirizzo economico-sociale negli studi di Alpa 1 per studiare da vicino le tecniche di comunicazione. Aspiranti giornalisti ad Alcamo crescono o perlomeno ci provano. Arrivano dal liceo economico-sociale Fazio Almeyer e sono pronti ad una sempre più difficile sfida sul mercato del lavoro, dove trovare spazi è diventato sempre più arduo, specie per le giovani generazioni. E l'ultima statistica Istat che indica in Sicilia una disoccupazione al 60% per gli under 24 ne è la riprova. 19 studenti della terza ha questa mattina hanno scelto la nostra emittente per vedere da vicino il lavoro della redazione e il funzionamento della sua struttura. Dallo scorso anno il liceo ha avviato nell'ambito dell'artenanza scuola-lavoro finanziata dalla Regione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca uno specifico percorso sul tema della comunicazione in tutte le sue sfaccettature, un approfondimento sui mass media locali che siano giornali, radio o tv. Il liceo economico-sociale Almeyer punta molto su questo argomento e poi perché crediamo anche che possa costituire un possibile sbocco lavorativo per i giovani, soprattutto grazie alla presenza di realtà come la vostra che offrono al territorio una chance in più. L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastico-formativa sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o ancora con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore come per l'appunto le emittenti televisive private disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. Un percorso studiato appositamente che ha il duplice obiettivo di contrastare all'abbandono scolastico che nel territorio ha medie elevate che eseggirano tra il 15 e il 20% per le superiori ma anche di creare le condizioni per formare il giovane e renderlo quindi subito spendibile per il mercato del lavoro. Il direttore della nostra emittente Rosalinda Viola ha fatto visitare i ragazzi lo studio e fatto conoscere da vicino come si lavora e se costruisce un telegiornale o un palinsesto televisivo. Un mondo questo che ancora oggi continua ad affascinare. Parlando personalmente ha colpito molto che ancora ai tempi d'oggi ci sono queste piccole aziende anche che continuano a mandare avanti questo lavoro. A me personalmente piacerebbe molto lavorare quindi in questo campo. Sarà presentato ad Alcamo in anteprima il 25 e il 26 febbraio al Cinema Esperi al film drammatico di Salvatore Bonafini e Angeli. Due gli spettacoli alle 18.30 alle 20.30. Il film già uscito la scorsa settimana sia a Milano che a Roma con i suoi cambi di epoche storiche racconta le avventure della piccola Jennifer orfana di entrambi i genitori che insieme al suo fedelissimo cucciolo il cane Jack si perde tra i resti di una millenaria città. Mentre sabato 28 alla presenza del sindaco Sebastiano Bonventre dell'assessore alla cultura Selene Grimaudo avrà luogo il primo evento del progetto Creative Lab Alcamo il convegno nuove pratiche d'arte che si svolgerà dalle 9 alle 17 al centro congressi Marconi e introdurrà l'inaugurazione della mostra Art on Loan alle 18 presso il museo di arte contemporanea del collegio dei gesuiti. E si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per aver guardato il video.